Ciao a tutti e soprattutto a te, sorello, fratello che stai vedendo questo video. Questo nostro progetto è a riguardo dei tanti rifugiati che dall'Africa, l'America Latina, Medio Oriente e anche Estremo Oriente vengono ad Hong Kong come rifugiati per poi andare in altri paesi, perché Hong Kong non può riceverli, non vuole riceverli. E allora qualche anno fa abbiamo cominciato anche un servizio per loro attraverso la nostra scuola che si chiama Right of the Vote University e adesso loro possono venire da noi a imparare e insegnare, cioè imparare soprattutto le lingue che poi in futuro dovranno usare, come l'inglese, francese, magari anche altre lingue, e poi anche insegnare. Quindi loro sono sia maestri che insegnanti. L'unico problema è che non hanno soldi abbastanza per l'autobus o per la metropolitana, quindi se tu vuoi sostenerli magari con un po' di chilometri di mezzi di trasporto sei benvenuta o benvenuto e certamente questo servizio a loro darà anche a te quel senso di internazionalità e di comunione che stiamo vivendo anche noi qui. Grazie a tutti.